A terza posizione Pirlo, seconda Iniesta e prima il mister Tiago Morto. Terza posizione Serie Divano, seconda Cina Romantica, prima Pizza con gli amici e la ragazza. Terza trofe al pesto, seconda Farinata, prima Focaccia. Terza Indy, seconda Rap e prima Rock. Terza posizione Ferraris, seconda San Siro e prima Alberto Picco. Terza da fuori, secondo di testa e prima di tacco. Terza salvataggio decisivo, secondo gol al novantesimo e prima assist geniale. Chi lo sa questo? Terza generale, seconda capitano, primo maggiore. Primo maggiore perché mi sono messo io, ovviamente. Ciao. 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 Ciao.